Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Oggi una puntata un po' particolare nel senso che nella seconda parte vi riproporremo un'intervista realizzata da Enrico Scaramucci con il presidente della consulta regionale per i disabili dove si parla tra l'altro di tutta una serie di problematiche e di soluzioni per venire incontro appunto a chi ha dei problemi e a chi deve comunque affrontare la vita di tutti i giorni con questi problemi. Ci sono tutta una serie di iniziative messe in piedi per ovviare a questi problemi. Nella prima parte invece siamo in compagnia della signora Claudia Magnago Schaffer. Buonasera signora, grazie per essere venuta a trovarci. La signora Schaffer l'abbiamo conosciuta in qualche modo, voi sapete che da un po' di tempo noi facciamo vedere i vostri presepi. La signora Schaffer non ha soltanto allestito un presepe, lei ha allestito fondamentalmente tutta casa sua insomma e abbiamo anche un po' di immagini da farvi vedere. La casa sua a Muggia. Intanto perché ci sono le stelle? Perché io sono nata penso sotto una buona stella, allora non sapevo quale è la mia, ho fatto tante. Ok, lei è nata, diciamo intanto possono partire anche, possono partire le immagini. Lei è nata, possiamo dirlo perché mi ha autorizzata, mi ha autorizzato quanti anni fa signora? Eh sono nata, allora il primo di agosto 1926, 91 suonato, non suonato ancora. Quindi insomma un compleanno, 90 anni li ha festeggiati l'altra estate? Sì, 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 sì. Guardi, la mia vita è passata in un lampo, è anche bella direi, molto serena, sono stata sempre così una persona felice, mi sono sempre accontentata di tutto. Questo è anche un segreto, no? Accontentarsi di quello che si ha. Lei ha vissuto a Muggia da bambina? Sì, mi sono sposata, sono andata a abitare a Trieste, l'ho vissuta a 50 anni, a Trieste, e poi sono tornata al paesello, dove ho tanti amici, ancora parenti, e Muggia è carina, è bella, e io la chiamo la Portofino del Golfo. Insomma, sì, sì, c'è ancora, come dire, è ancora una cittadina dove ci si conosce tutti. Sì, è vivibile, ancora al mattino si dà il saluto, si conosce ancora gente, sì, è ancora, è carina, è bello, sì, anche la gente molto buona, molto così, diciamo, modesta, sì. E lei quindi ogni mattina fa una passeggiatina? Io vado giù tutte le mattine, ho le amiche che mi aspetta, faccio la passeggiatina, si chiacchiera, si sente le novità, mi chiedono come che sto, io dico sempre che sto bene, e loro hanno tanti doloretti e mi dicono sempre, ma cosa tu non hai niente, cosa mi devo inventare? Per farle contente. No, no, è veramente, no, no, no. Però, insomma, adesso, l'ultimo periodo ho avuto anche questi problemini, sì, mi sono intoppata nel piede del letto, insomma, cose che capitano a 90 anni. A 90 anni. Senta, lei ha detto prima, no? Io ho avuto una vita felice, ho avuto una vita perché mi sono sempre accontentata di ciò che... è un po' un segreto. È vero, è vero, è vero, sì. Io ho visto sempre la vita rosa, sempre. Poi ho avuto anche io dei dolori in famiglia, la mancanza delle persone care, ma per carità, però bisogna andare avanti e non si può togliere la vita a nessuno, quelli che ci stanno attorno. Bisogna andare avanti, farci bravi, forti. Lei ha vissuto anche il periodo della guerra, quindi, insomma, voglio dire... Certo, sì, beh, avrei tante cosette da dire, perché ho visto, per esempio, io andare a fondo la Rex, perché abitavo a San Colombano, tra Chiampore e Crevatini, dove che vedevamo tutta Capodistia, tutto, quasi fino a Venezia col binocolo. Sì, sì. E ho visto cadere quell'aereo famoso, che adesso, non so, qualche anno fa era sul giornale. Poi da Trieste i tedeschi sparavano fino al cimitero di Capodistia, dove c'era i partigiani, e una granata ha preso anche la mia casa. Per fortuna era di giorno, che non era la notte, perché mamma e papà dormivano in quella stanza. E poi ho visto tante cose. E hai visto anche il bombardamento? Ho visto la resa dei tedeschi, che erano nella fortezza di San Bortolomeo, e ho visto anche cosette brutte. Le cose, se posso chiedere, le cose brutte che ha visto, le ha dimenticate? No, perché non bisogna dimenticare niente per apprezzare la vita, il bello e il brutto. Questo è vero, questo è fondamentale. No, qualcuno ricorda le cose brutte, ma bisogna ricordare un po' tutto. Ma senta, mi tolgo una curiosità, questa è una domanda che io non riesco mai a fare ai miei parenti, perché, insomma, forse c'è sempre un po' di... Io sono sempre dell'idea che durante il periodo della guerra, no? Non si rideva, non ci si divertiva, eccetera. No, non è vero, perché noi giovani, io avevo, quella volta avevo 16 anni e mezzo, 18, e si andava a ballare al ridotto dei rossetti di Muggia. Ho capito, che è dove? Si andava già alle 4, e si ballava a due rete, poi si andava via. E mi ricordo che via del Teatro Verdi di Muggia si andava saltando, saltelando, perché quando si ha 18 anni, che sia guerra, che sia miseria, insomma, i 18 anni sono sempre belli, ecco, anche perché non si capisce molto. E' vero, sì, questo, sì, cioè, beh, non è sbagliato. Ma è vero, perché a 18 anni non può essere ancora maturo, no? No, oggettivamente, no, e forse... No, si è maturi, per carità, senz'altro, no? Ma comunque è sempre quella voglia di grinta, di vivere. Io direi di più, forse a 18 anni nemmeno si deve essere troppo maturi, perché ci si deve ancora divertire. Certo, sì, sì. Poi c'è tutta la vita davanti per ripensarci. Mi racconta di questa borsetta che ha portato a casa, che la faccio a vedere. Allora, questa borsetta ha una mia sorella che si chiamava Solange. Sì, bel nome. È un nome strano anche per... Siamo andate a Trieste a portare un pacchetto a un'altra mia sorella che faceva la bambinaia in piazza San Giovanni. Allora mia sorella, che era caldo, era sempre agosto, veniva in vacanza e mi dice, aspettami giù qua di questa entrata vicino alle cooperative operarie. Allora io mi sono messa lì, avevo sei anni perché non davano anche a scuola, ma io mi ricordo tutto, tutto. Mi sono messa, era caldo, era un po' stanca, perché abbiamo fatto tanta strada, il vaporetto, dopo il vaporetto fino a... tutto ha attraversato la piazza Unità, fino a su... Quanti anni aveva? Sei anni mi pareva. Sei anni, anche a scuola, perché la scuola cominciava a settembre. Allora mi metto con la manina su questo portone, stanca un pochino, passa un signore bellissimo, che per me era vecchio, ma aveva avuto dai 40 ai 50 anni, vestito di grigio alto, con un cappello, un bellissimo, una persona che io la ricordo sempre. Mi mette in mano 5 lire, quelle d'argento con l'aquila, che era la paga di mio papà di una settimana a Sarocco. Tornando a Mugia, mia sorella mi dice, vieni che ti faccio una fotografia. E siamo andati a Mugia in via Dante, a fare la fotografia che ce l'ho ancora oggi. Questa guarda, peccato che non si... Dunque ero una bambina bella, perché non ero una poverina, perché ho anche le scarpette di vernice. Ah, è vero, accidenti. Sì, dico... Peccato che non si possa vedere benissimo. E questa è la borsetta che ancora l'ho conservata per tanti anni. Quindi questa borsetta ha... Guardi, scusi, guardi la fotografia con la borsetta. Ah, la borsetta io la vedo meglio, perché non riusciamo a fare... Ecco, con la testina. Un primo piano, però insomma la borsetta sarebbe da questa parte qua. Insomma, e questa è la borsetta. E questa è la borsetta che mi ha portato la sorella, piena di cioccolatini e succa. Ah, ci devo, è buona. Quella poi era roba... Eh, quella volta, sa. Era una cosa rara. Lei aveva due sorelle? No, no, avevo tante sorelle. Tutte femmine? No, no, sono rimasta sola. No, no, me dico, tutte femmine, tutte sorelle? No, no, sette sorelle e due fratelli. Mamma mia! Sì, ma una volta andavano al litro a scaldarsi, mica come adesso. Sì, sì, questo... Se posso chiederle, andava più d'accordo con le sorelle o con i fratelli? Con tutti, mi ha voluto bene tutti. Sì, sì, sì. Ma non voglio dire troppe cose perché sarebbe... Sarebbe... Ok. Ma gli dico lo stesso, perché ero una coccoluna. E poi, insomma, mi pare di capire che... Adesso mi vergogno un po'. No, ma perché? Senta, invece, parliamo di un'altra cosa, no? Appunto, 90 anni. Adesso 91 ad agosto. Cos'è cambiato? È una domanda un po' stupida, mi rendo anche conto, però... di tutti i cambiamenti, mettiamola così, tutti i cambiamenti che lei ha visto nel corso di questi anni, eccetera, no? Qual è quello che... Quando sono nata io erano momenti duri, perché... Mi ricordo che c'era il sciopero bianco nel... No, io il 28 non è che mi ricordo, ma per sentito dire dei genitori c'era miseria abbastanza. Poi è venuta la guerra, era dura con la guerra, perché... A casa mia non mancava niente, perché siamo nati in campagna, avevamo tante cose, e anche veniva gente da Mugia, gli davamo qualche sacchettino di patate, boh. E dopo la guerra ha cominciato, insomma, bei periodi, di fiorire, diciamo, tutto, case, e... La gente, insomma, molto... ci dava da fare per gli appartamenti, insomma, anche piccoli sacrifici per farsi, perché quella volta c'era i mutui, c'era il disio, però la gente, dico sempre che con la liretta si sono fatto tanto. Ok. Con l'euro non ho più. Ma il cambiamento, tra tutti i cambiamenti che lei... No, cambiamenti molto, molto belli, bellissimi. Ma quello che la, diciamo, che l'ha colpita di più, quale potrebbe... Quello potrebbe essere. Sarà stato gli anni 60-70. 60-70. Sì, 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 sì. Gli anni bellissimi. Dove che la gente proprio cominciava... Tutteva bene? Sì. Non capisco. Sì, adesso, fino a pochi anni fa, era lo stesso, bene. Adesso un po' siamo in scadenza, no? Siamo in scadenza non è male. No, io sono stata con i miei amici, adesso ho visto una mia amica, mi diceva, mi ricordo sempre di te che contrastavo con tutti gli amici sempre per i confini e per l'euro. L'euro non che va... No, perché con la gerita tutti si sono fatti qualche cosa, ma con l'euro... Non che va zola l'euro, in pratica. No. E anche i confini. Io dico, a casa, quando si va, si chiude la porta, no? Sì. nel piccolo e nel grande pure. Beh, è una filosofia, sì, è una filosofia di vita che, insomma, può anche essere condivisibile. No, no. Non va bene così. No. Poi noi in Italia non abbiamo un padrone, qui si può fare quel che si vuole. Chi comanda? E questo non è... non è una cattiva domanda, per la verità. Senta, signora, lei ha due figli. Sì. È una nipote. Sì. Una nipote che vive in Germania, mi dice. Sì. Studia in Germania. Sì, dice che è laureata. È una ragazza molto brava, seria, così anche modesta. Sì. E come vede, per esempio, una signora di 90 anni, come vede i giovani, in genere, insomma? Ma no, sono ancora... sono anche bravi, anche giovani, sì, sì. Ecco, io se sarei giovane, farei come loro. Andrei con i calzoni, con le toppe. Sì, sì, mi piace, mi piace. Non l'esagerato, no, ma insomma... Si divertirebbe, insomma. Quello che può andare. Si divertirebbe. No, ma a me più giovani mi piace. Sì. Della Trieste di un tempo, no? Della Trieste. Poi di un tempo, sì, vabbè, io parlo della Trieste di un tempo, in realtà è la Trieste... Eh, la Trieste di un tempo era una città molto bella, molto elegante, molto... molto chic, una città che si faceva rispettare, però che adesso non è male a Trieste, una città ancora che si salva, penso così, le famiglie, l'educazione di figli, insomma, io vedo ancora una città, una città molto, molto, molto a posto. I suoi figli stanno a Trieste? Prego. I suoi figli stanno a Trieste? Sì. Ok. Loro abitano a Trieste. Lei ogni tanto viene a Trieste? Ogni giorno vengono da me. Ah, loro vengono... Ma lei a Trieste viene ogni tanto? E dico sempre che non pensavo di aver cresciuto due figli così buoni. Senta, e... E sì, perché oggi, sa, tante volte anche le figlie non si ricordano dei genitori, no? Sì, questo mi diceva prima che le... Sì, però per fortuna poi ci sono dei casi appunto in cui... No, sono molto buoni, bravi, buoni. Ecco, ma per esempio, della Trieste appunto di un tempo, no? Lei ha detto che è una città molto... Lei, se posso chiedere, in che zona abitava? Io abitavo, allora, prima, appena che mi sono sposata, sono andata ad abitare in via... Sempre in un appartamento con Aldizio, in via... Si chiamava via Dameno Chiesa. Poi dopo hanno messo via Verocchio 2, una piccola vietta. Ah, quindi San Giovanni, zona San Giovanni. E dopo sono abitato in via Carlo Antoni, quelle belle palazzine. Ah, quelle palazzine più... Sì, quelle belle palazzine. Quella specie di... Abitavamo fino giù, vicino al boschetto, che veniva i caprioli in garasso. Nel garasso. Una mia amica abitava in via Carlo Antoni, venti, se non mi sbaglio, abitava lei. Con suo marito lei ha viaggiato? Sì, tanto. Mio marito aveva una fretta di girare, di viaggiare. Sì, 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 sì. Sì, non voglio neanche raccontare, per sembrerebbe che conto cose non vere. Ma, per esempio, il luogo che le è piaciuto di più, fra quelli che ha visto, qual è? L'Italia l'ho vista quasi tutta in largo e lungo, fiumi, monti, città, paesi, meno che la Calabria e la Sardegna. Ah, ho capito. Poi in Sicilia, in Corsica, ho visto Roma tre volte, Napoli, insomma... Insomma, l'ha vista il nostro paese. Poi ho fatto l'Austria più volte, la Svizzera, poi sono stata in Cicordovacchia, in Ungheria. E quindi, insomma, proprio... Sono stata in Russia. In Russia? Ma ho passato un capodanno del 1990, meraviglioso, con la neve sotto San Basilio, fiocchi così grandi veniva, bellissima. Poi anche ero a Leningrado, quella volta si diceva Leningrado, adesso si dice San Pietroburgo, bellissima città, molto bella. Eravamo fino al sul Baltico, bella, bella, bella. Poi sono stata in Turchia, sono stata due volte in Grecia, sono stata due volte in Israele. Una volta ho fatto il giro con gli ebrei, che è indimenticabile, è la sua terra. Poi sono stata in Giordania, a Petra. A Petra, che è bellissima. Ah, meraviglioso. E quelle, adesso, delle città fuori dall'Italia, quelle che le... Ma guardi, per me... Perché poi non è che uno... Ma io le ho tutte nel cuore. perché quando vado mi innamoro. Sì, non è che va... Guardo tutto, palazzi... Viaggia ancora o adesso è più... No, l'ultima volta sono stata a Berlino. Adesso sono 3-4 anni fa. Insomma. E il penultimo viaggio fatto in Siria, nel 2010, a settembre. Penso che eravamo gli ultimi turisti. Eh, sì, l'ha fatto in tempo perché poi... Gli ultimi turisti, penso. Perché poi dopo è successo subito. Quello che è successo. Ma per esempio, ecco, una persona come lei, che ha vissuto la seconda guerra mondiale, presumo che non l'avrebbe mai immaginato, cioè, uno avrebbe pensato che dopo la seconda guerra mondiale robe del genere non sarebbero più tornate. No, io sono nata così, anche una famiglia, diciamo, di gente modesta, ma però eravamo ricchi perché a scuola non mi davano anche la mensa a me. Però tu non vuol dire... No, allora non pensavo mai di arrivare a vedere tanto e di poter nella vita apprezzare, diciamo, il mondo. Ma lei ha questa, diciamo così, questo ottimismo, questa bella voglia di vivere, insomma, adesso non voglio utilizzare termini che possono sembrare... E' sempre stata così? E' sempre stata così? Ma io sono invidiata per il carattere, sì. E cosa la fa arrabbiare? Che ci sarà una roba che... No, non mi fa arrabbiare niente perché... Tanto non serve in mano. Io ho tutto. Lei però lo dice, lei riconosce che, insomma, la sua è stata una vita fortunata, è una vita fortunata. No, io sono stata molto fortunata, molto, molto, non posso contare, ma molto. Gli conto dopo in segreto. Gli conto dopo in segreto che nessuno, eh, che nessun... Che nessun sappi, insomma. No, di montaio, eh? Sì. Perché penso qua che farò ridere i miei mugisani. Ma senta, per esempio, una roba più vicina, più vicina a me, no? Nel senso, lei andava, non so, al cinema, le piaceva? Sì, avevamo anche l'abbonamento in Teatro Verdi, poi mio marito si era malato, poi, insomma, dopo abbiamo rinunciato, perché lui è mancato, è così. Ma andavamo a Rossetti, dopo, dopo, dopo le... lo spettacolo andavamo a mangiare, da pepe picciavo. E attori, chi le piaceva? Dai, mi racconti un po'. Gli attori, chi le piaceva? Ma mi piaceva molto gli attori, adesso non mi piace più. Ma chi le piaceva, di quelli di un tempo? Chi era il suo favorito? Sì, Lupo, ma insomma... Ah, proprio! Sì, ma insomma, adesso ho tanti, adesso non mi ricordo così, ma cosa che mi piace ancora adesso è guardare i film di Sordi. Di Alberto Sordi? Sì, tanto, sì, sì. Io l'ho intervistato due volte. Sono reali, insomma, film veramente che tocca. Adesso, brutto tasto, guarda la televisione come... Tutto il giorno, tutto il giorno. Cosa le piace? E mi piacciono i documentari, molto, perché per televisione, posso dire una brutta parola, sono schifezzi. Ma per esempio, non trova anche... No, sono pistole, sono morti, sono... No, sangue, non mi piace, giro, giro. Ma trova anche lei, per esempio, io ho un po' di... Adesso, eh, che alcuni programmi incominciano troppo tardi, anche lei si arrabbia? Ma guardi, io sono una persona che ho fatto, vissuto due volte, come quel famoso film. film con... Perché dormo poco. Ho capito. E io, quando che avevo la famiglia, avevo tre uomini, marito e due figli, alla sera, a dieci mezza, mi mettevo appena a stirare. Ho capito, quindi... Finivo a mezzanotte, la mezza, e mio marito mi aspettava, d'estate, mi aspettava in terrazza, con la... Kina Martini, con il ghiaccio. È bellissimo. E d'inverno, allora lui guardava la televisione, io che stiravo, e guardavo la mia piccola televisione, dopo mi aspettava, e mi... sempre con piccoli unischi, perché io non ho mai bevuto, anche non ho mai un fumato, e poi dopo, io mi preparavo prima di lui, andavo a letto, quando veniva lui, mi già riveliavo, gli raccontavo il sogno. Bellissimo, bellissimo. E mi diceva, sempre, tu una pensi, due ne fai. Allora, signora, io la ringrazio tantissimo, ma... ripetiamo, insomma, ah no, non le ho chiesto, molti quando chiedono il segreto per arrivare così, così tranquille, insomma così serene, all'età, a un'età come la sua, molti raccontano anche, non so, mangio poco, mangio tanto, mangio... No, io no, non mangio, mangio pochetto. Sempre è stata così? Sempre, sempre, sì, poco, mangio poco, perché così, poi non mi fa gola niente, non sono golosa, non ho freddo, non ho caldo. Però per i suoi 90 anni la torta di compleanno l'ha fatta lei? Sì. E che torta era? Faccio una torta che non mi credono anche le mie amiche, senza polverina, e viene alta così. Ho capito. E dentro? Con sei uova, perché mi ha insegnato la suocera, perché il mio marito era così di famiglia tedesca e mi ha insegnato tanti dolci e li sto facendo sempre e faccio anche sempre inviti, anche adesso le feste ho fatto due cene e un pranzo per amici. E' sempre cucinato lei? Sempre ho cucinato io. Tutto. Quindi il segreto è anche tenersi attivi, cioè trovare sempre qualcosa da fare. Per questo si vive a lungo, perché si deve creare, si deve fare, si deve lottare. Si deve vivere. La vita è tutta una lotta. Si deve vivere, insomma. Si deve vivere. Si deve vivere. Allora, grazie alla signora Claudia Magnago Schaffer per essere stata nostra ospite. Non può dettagliare qualcosa. No, perché? Ma la sa anche tutto come funziona. Domani non vado giù da casa per una settimana. Ma vedrà anzi che sarà ancora... Una settimana non mi fa vedere. Lei la saluderà ancora più volentieri. Per l'amore di Dio. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie a voi, sei stato molto coccolo. Per l'amore di Dio. Dopo la pubblicità riproponiamo l'intervista con Vincenzo Zoccano fatta dal nostro Enrico Scarabucci, al quale facciamo tanti auguri di pronta guarigione.